Sono stato molto orgoglioso di aver indossato quella dell'Arezzo che mi ha accompagnato in due anni e mezzo spettacolare. Ascolti la radio e guardi la tv e scopri un fatto piacevole che evoca bei ricordi in coloro che l'Arezzo lo seguono con il cuore e con nostalgia. Grazie alla tripletta segnata sabato scorso al Gubbio, Elvis Abruscato ha superato la soglia dei 100 gol da calciatore professionista. Un traguardo mica da poco per un atleta che pur non raggiungendo un posto stabile nella prima fascia è riuscito a ritagliarsi una collocazione importante nel panorama calcistico nazionale. Ci fa piacere sottolineare questo aspetto, dei suoi 100 gol 44 li ha realizzati con la maglia dell'Arezzo. La Marcord finisce qua, guardare al passato dicono che sia pericoloso, però ogni tanto fa bene. La Marcord finisce qua, guardare al passato dicono che sia pericoloso.